Sanremo Young con la Clerici Sanremo Young con la Clerici, cos'è, come funziona e come fare per partecipare Nuova competizione musicale della Rai, Sanremo Young condotta da Antonella Clerici. Sanremo Young 2018 è il nuovo format della Rai, condotto da Antonella Clerici, la nuova competizione musicale si articolerà in cinque prime serate. Saranno trasmesse in diretta dal Rai 1 dal Teatro Ariston di Sanremo, in onda tutti i venerdì in prima serata dal 16 febbraio al 16 marzo 2018, salvo imprevisti ed improrogabili esigenze di palinsesto. . 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 Sanremo Young tutte le informazioni necessarie per partecipare. . Il nuovo format della Rai Sanremo Young ha dato avvio alla presentazione della domanda di partecipazioni online. . . È possibile infatti candidarsi dall'1 al 31 dicembre 2017. . Siccome i partecipanti sono minorenni è necessaria la delibera firmata da entrambi i genitori. . . I giovani cantanti saranno esaminati da una commissione artistica, composta dal direttore artistico Gianmarco Mazzi, da Antonella Clerici e dal direttore musicale Diego Basso. . Avranno un valore determinante anche i profili social dei candidati, i quali potranno pubblicare la loro esibizione sul web. . La commissione artistica valuterà tutte le domande di partecipazione ricevute, selezionando i migliori, i quali sosterranno successivamente un'audizione dal vivo. . Sanremo Young eliminazioni e votazione. . . . La commissione artistica sarà determinante per tutto il percorso dei giovani cantanti. . Sanremo Young partirà da un totale di 12 ragazzi, ogni sera durante la competizione verranno eliminati due cantanti con un meccanismo di votazione. . 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